Una maratona speciale dedicata a un uomo e uno scrittore speciale. Non so se si nota, ma alle mie spalle sta andando in onda una delle più famose narrazioni di Luis Sepulveda. E a Luis Sepulveda è dedicata a questa maratona a cui partecipano tante persone, maestre, alunni, scrittori o semplici lettori. Ma vediamo insieme chi saranno tutti i protagonisti di questa iniziativa speciale. Mi devo levare gli occhiali per poter leggere tutti i loro nomi. Intanto iniziamo con i bambini della Quarta A della Scuola Maria Immacolata di Alghero, poi gli scrittori Ciro Riemma, Bruno Arpaia, Fabio Stassi, Marcello Fois, Renato Troffa e ancora Maurizio Galante, Antoni Coronzu, Claudia Crabuzza, Carla Valentino, il grande Bruno Tognolini, Giovanni Fancello, Stefano Resmini e ancora Paolo Carta, Stefano Pinna, Carmelita Zedda, le elettrici e i lettori del Circolo Bergerac. Da non dimenticare anche la partecipazione di Emiliano Dinolfo, Eleonore Giona, della cantante Franca Masu e di Chiara Murro. Buon divertimento da Francesco Abate.